È un orgoglio a livello personale, è un onore arrivare alla quinta stagione con questa maglia addosso. Come ogni anno cercherò di ripartire come se fosse un anno zero, perché è quello che poi mi ha dato la spinta per rendere sempre ed essere costante e far sì che da poter arrivare alla quinta stagione. Per cinque anni ho fatto cinque rinnovi, questa dimostrazione è comunque sacrificio alla dedizione e messi insieme fanno sì che si raggiungano i risultati. Per me è sempre un punto di partenza a livello di stagione, ma è un punto d'arrivo. Il punto d'arrivo l'ho avuto arrivando al Cagliari, ma a livello personale sul campo per me è sempre un punto di partenza con tanta umiltà, cercando sempre ogni anno di migliorarmi e di dare il mio contributo. Il club fa cento anni e si ricorre comunque al cinquantesimo anno dallo scudetto e questo per noi deve essere una responsabilità in più. È normale che anche la piazza si aspetta qualcosa in più, la società, e noi calciatori cercheremo di dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. È un campionato sempre più affascinante, ci sarà sicuramente da divertirsi. È bellissimo per il Cagliari disputare un'altra stagione di Serie A e per noi calciatori affrontare campioni che arriveranno anche da altre squadre. La Serie A è un campionato molto competitivo, forse tra i primi al mondo, per questo è un piacere giocarci. Loro sono il nostro dodicesimo uomo, sono quelli che nei momenti di difficoltà riescono a trainarci, a fare in modo che ognuno di noi possa tirare fuori il meglio. Sono convinto che anche quest'anno passerà anche buona fetta dalla loro voce e dal loro supporto. Io che sono da cinque anni qua so benissimo cosa sono capaci di fare, perciò siamo tranquilli perché avendo loro al nostro fianco siamo ancora più forti.